Io sono Luigi, tengo 7 anni, vengo da Salerno, tengo 7 anni e forse vi farò aprire un canale Vi farò vedere tutti i giochi che tengo e poi vi farò vedere anche come che giochi tengo e vi farò vedere come giocherò E questo è tutto per il primo video, poi ne registrerò un altro Grazie